a Verona? 9 euro abbiamo andato a 9 di torno ma io finora non sono andato sono andata solo in Rossemburgo e in Germania e a Milano perché mi hanno portato i miei parenti no, quelli che costano sono gli Eurostar quelli che costano proprio tanto di più però vabbè, fatto un po' tristezza sta cosa c'è un po' tristezza Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.